Qualche settimana fa, con la premiazione dei vincitori delle varie sezioni, si è concluso nel Teatro Comunale Maria Caniglia il premio Sulmona, la Segna Internazionale di Arte Contemporanea. Ma il premio in qualche modo continua ai suoi effetti con vari incontri che si tengono nel polo museale civico di Ocesano di Santa Chiara, con vari incontri con i vincitori ed esponenti delle associazioni ed enti che li hanno presentati. Qualche giorno fa si è tenuto il primo incontro, incontro con Lea Contestabile, vincitrice della sezione territorio, l'artista è stata in conversazione con Italia Gualtieri, direttrice del Mab, Laboratorio d'Arte, e poi incontro con Gino Sabatini Odoardi, vincitore del premio speciale e rivista d'arte, l'artista è stata in conversazione con Martina Sconci, direttrice della rivista. Ha brillantemente condosso il pomeriggio culturale Ivan D'Alberto, direttore artistico del premio Sulmona. Il significato di questo suo lavoro sono tante piccole figure. Ci vuole spiegare un momento? Allora, sono dei ritratti di donne, di donne del mio paese, che io ricordo benissimo, perché fanno parte della mia infanzia e della mia adolescenza, e sono donne fotografate da mio padre, contadino, Guido Rante, che pur essendo contadino, aveva la passione della fotografia e ha lasciato un patrimonio straordinario con cui racconta tutta una comunità attraverso appunto i ritratti, attraverso le feste, attraverso i matrimoni e così via. Io ho recuperato questo archivio fotografico e siccome nel mio lavoro artistico lavoro proprio sulla memoria, ho pensato bene di utilizzare queste immagini che mi ha lasciato in eredità mio padre per raccontare a mia volta il mio paese e il mio territorio e quindi le tradizioni che vivono nella cultura che mi ha formato e che continuo a formarmi. È il primo degli approfondimenti sulla ricerca artistica degli artisti premiati nelle rispettive sezioni. Questo primo incontro è dedicato all'Acontestabile che ha conseguito il titolo insomma di vincitrice della sezione territorio. Una sezione che nasce quest'anno per idea del curatore Ivan D'Alberto che ha voluto tastare se vogliamo le tendenze e la produzione artistica contemporanea abruzzese invitando un certo numero di gallerie che hanno stabile dimora base in Abruzzo tra queste anche il laboratorio d'arte MAV che ha sede a Sulmona da oltre dieci anni e proponendo a queste gallerie di candidare un artista dei nomi. Il laboratorio d'arte MAV ha candidato tra i due nomi proposti anche Lea Contestabile e abbiamo avuto l'onore e la felicità di essere riusciti tra i vincitori insomma di questa sezione. Ha vinto. Lea Contestabile è la prima vincitrice della sezione Territorio che vede anche un premio speciale però l'onore in questo caso è interamente del lavoro e della ricerca della nostra artista che questa sera approfondirà i contenuti, i temi della sua ricerca insieme al curatore Ivan D'Alberto e con il supporto e la vicinanza di MAV che è la galleria che l'ha presentata.